Tecnologia e scienza ieri da Ema a Roma, com'è andata? Andata bene, sono contento perché Moavero è una persona esperta e conosce molto di Bruxelles e molte persone a Bruxelles e quindi ci darà una mano. Ho sentito poi Emma Bonino, anche Emma ci darà una mano, quindi io sono sereno che a livello di dossier faremo il meglio, dopodiché è una questione politica che obiettivamente sfugge anche dal mio controllo personale, quindi è difficile oggi dire quante possibilità ci sono. Facciamo le cose per bene, durante questo weekend si parlerà a Bruxelles di Brexit, ci aspettiamo le linee guida per la ricollocazione di Emma a breve, quindi io credo che in maggio il dossier e la candidatura verranno presentati. Difficile dire quando sarà la decisione, suppongo un po' verso fine anno però.